In occasione dei festeggiamenti per la solennità di San Francesco, la regione Sardegna ha donato nel segno della Laudato Si una scultura in legno di olivastro proveniente dall'isola dell'Asinara che è stata collocata alla cittadella della Procivitate Cristiana di Assisi. L'opera, realizzata in occasione del Giubileo del 2000 dall'artista sardo Enrico Mereu, è stata portata nella città del Poverello su iniziativa dei circoli Laudato Si dell'Asinara e del Badesi, con la collaborazione della regione Sardegna e del circolo Laudato Si di Assisi. L'opera, collocata nell'Anfiteatro della Procivitate Cristiana, sarà visitabile dal pubblico per tutto il mese di ottobre, allorquando verrà scelta una collocazione definitiva. Grazie a tutti.